Siamo italiani Siamo italiani Siamo italiani Siamo italiani Partendo da Schiavone Che cosa ne pensa? Se sarà in grado di trovare All'interno della coalizione di centrodestra E del partito del Movimento 5 Stelle Un sunto per formarlo poi questo governo Oppure no? So che è una domanda da un milione Però proviamo a trovare Non ci sono certezze Solo opportunità Dunque la Casellati secondo me Essendo la seconda carica dello Stato Interpreterà il suo ruolo In maniera più imparziale possibile Questo diciamo è il mandato che gli ha dato il Presidente della Repubblica Con tutto il rispetto però io penso Che sia un mandato insomma Esplorativo Ma che serve ad arrivare oltre al 21 Al 22 Perché sappiamo tutti che in questo momento Queste due scadenze elettorali Che non dovrebbero condizionare il dibattito politico Purtroppo come spesso accade nel nostro paese Delle regionali che ci saranno Il 22 e poi anche il 29 Ce ne saranno altre E questo secondo me condiziona un po' il dibattito Quindi secondo me Dovremmo un po' aspettare C'è da dire che è da notare In questo risico politico Che la legge proporzionale ha costruito Che un interlocutore Forse un po' di tempo fa ricorderai Che ne abbiamo parlato proprio in questa trasmissione Vedrai che Con Rosatellum Perché Rosatellum è la legge elettorale Che fa girare l'Italia Ma in realtà funziona ben poco E la vera legge che funziona È il consultellum Cioè le consultazioni al Quirinale Vedrai che faranno rientrare il PD Il PD sta rientrando in gioco E mette in gioco i suoi voti Ed è il secondo partito più votato Non è che Voglio dire Allora inizialmente abbiamo detto Andiamo all'opposizione Così poi alla fine Si sono resi conto di un sistema proporzionale Non puoi andare all'opposizione Finché non c'è un governo E adesso aprono secondo me Degli scenari Quindi Questo mandato serve fino a un certo punto Poi si vedrà che cosa farà il PD La settimana prossima E influenzeranno anche Ovviamente la scadenza elettorale Di cui appunto Quello ci mancherebbe E per il fatto che La figura da Casalati Comunque sia molto legata A Berlusconi A Forza Italia È qualcosa che rende ancora più difficoltoso Diciamo il trovare un accordo Visto che voi con Forza Italia Avete effettivamente delle problematiche Almeno di forma Ma io non credo Credo che la Casalati Interpreti il suo ruolo In maniera imparziale Super parties E che quindi Esegua il mandato Del Presidente della Repubblica Nel modo più imparziale possibile No, non credo Che questo crei il problema Monti Che cosa ne pensa Di questa situazione Un passo avanti Perlomeno c'è stato Almeno un incarico esplorativo È stato dato È già questo Certo, no In realtà però Leggendo meglio La nota Anzi Ascoltando meglio La nota di Zampetti Soprattutto che È uscito A dare Quella che è L'indicazione Del Quirinale Non è un mandato Poi così Super parties Perché in realtà Il mandato Che il Quirinale Dà alla Casellati È quello di Esplorare La possibilità di costruire Una maggioranza Con un Presidente Del Consiglio Che dovrà trovare Indicare Le stesse Casellati Ma retto Esclusivamente Da una maggioranza Centro-destra 5 Stelle Quindi non ha un mandato Super partner Nel senso di andare Certo, no, no Mi era chiaro Però Era per chiarire Era per chiarire Che in questi Due giorni Cioè Venerdì mattina Game over Ok L'unico lavoro Che potrà fare La Casellati È quello di andare A chiamare Tutti i movimenti Partiti Che compongono Il centrodestra E i 5 Stelle Per capire Se in questo Assetto Si potrà trovare Un accordo Per sostenere Un Presidente Del Consiglio E un governo Credo però Anch'io Che il game over Sia già suonato Tre secondi dopo Diciamo L'incarico Dato alla Casellati Perché la prima Dichiarazione Almeno quella La prima Che mi è parsa A essere lanciata Sull'agenzia È stata quella Di Maio Che diceva Noi comunque Con Forza Italia E con Berlusconi Non ci andiamo Secondo me In parte Anche sbagliando A legare Sempre e comunque La figura Di Berlusconi Che ricordiamo Un po' Come Grillo Per i 5 Stelle È un'entità La chiamiamo garante Ma nei fatti Non c'è Non siede in Parlamento Non può E non potrà sedere Con nessun titolo e ruolo In un governo Cioè sono due entità Quelle di Grillo E di Berlusconi Ricordiamo Ambedue Condannati Ma questo è un particolare Che dà Berlusconi ha le consultazioni Per il Presidente della Repubblica Grillo no Che discorsi sono Non è la stessa Allora Quando andavate Nel 2016 Adesso è un'altra cosa È chiaro Quindi quando andavate Con la Chia Non in bicicletta Le consultazioni Ci andava Grillo Lo ricordo Perché ci andavamo Con la Chia Ok Ma anche Quelle più Recenti Ma ha detto questo Al di là della polemica Che serva poco Era per dire Che se c'è Un partito politico Vota Che non è il mio Quindi non è che debba Difendere qualcuno Ma votato Da diversi milioni Di cittadini Non lo si può Etichettare Come il male assoluto Come ha detto Di Battista E quindi In una logica Proporzionale Escluderlo a priori Perché se cominciamo a dire Escludo quello a priori Escludo l'altro a priori All'Italia Un governo Non lo daremo mai E io credo che Con tutti i problemi Che ci sono Da risolvere Da affrontare Un governo Serva Così come Concludo È un po' infantile Dire O faccio il presidente Il consiglio io O non si fa niente Soprattutto quando Le elezioni Non le hai vinte Cioè Questo È curioso Allora Oggi abbiamo due personaggi Particolamente focosi E mi fa piacere Perché rende tutto più divertente Diamo la possibilità Di rispondere in questo senso Un flash se vuole A Schiavone Poi in realtà Voglio un parere Della Casale In generale Su tutto Diciamo Questo carrozzone Quale può essere La risultanza Poi sull'italiano Giusto perché Si deve partire Da una realtà storica Andrea mi darà ragione Allora I primi a escludere Forza Italia Non è stato il Movimento 5 Stelle È stata la Lega Andando all'opposizione Durante il governo Monti Sostenuto da Forza Italia Andando all'opposizione Durante il governo Letta Sostenuto da Forza Italia Andando all'opposizione Restando giustamente All'opposizione Composizione che Che noi abbiamo condiviso Alle volte Durante i governi Renzi E Gentiloni Con parte del centrodestra Quindi l'hanno già escluso loro Dimostrando che le coalizioni Che le coalizioni Non sono poi Questo sistema rigido Loro sono andati Contro i premier diversi Quindi Adesso questa cosa qua Si può sentire fino a un certo punto Siamo in uno schema proporzionale Quindi si possono creare Geometrie variabili Ora Chiaramente Ognuno decide Come Allearsi Poi Destino e volontà Sono subbinari avversi Per questo I piani vanno sempre dispersi Nostri sono i propositi Gli esiti ci sono estorti In parte dal destino Però no Su questo flash Vorrei sottolineare Cioè Se l'indicazione Il consiglio del Movimento 5 Stelle E il modello È quello di Alfano Che ha preso I voti Raccolti Sotto il cartello Del centrodestra Tradendo subito L'elettorato E consegnandolo A un'altra coalizione Ad altri partiti Per fare la maggioranza Se questo è il modello Che 5 Stelle Propone Cioè Il tradimento politico Il trasformismo A 30 giorni Dopo le elezioni Noi Noi E la pagata No no E la pagata Voi siete andati In opposizione No E la pagata E la pagata Motivo in più E io penso che voi Non siate d'accordo E perché ci consigliate Di farlo adesso Ci consigliate di tradire Il centrodestra Che abbiamo raccolto I voti 30 giorni fa Questo è un po' Il gioco della politica Il trasformismo no Anche se ce lo consiglia Il 5 Stelle Il trasformismo no Noi siamo stati elettri Il centrodestra E quella è la coalizione La ricerca di voti È quello In cui si Diciamo Il sunto Delle discussioni Poi alla fine È quello Ovviamente le posizioni Sono differenti Voglio capire Da Casale No quello per fortuna Assolutamente Non avremo nulla di cui discutere Saremo qua a dirci tutti di sì No voglio capire invece Da Casale Tutto ciò che ha sentito Ovviamente quello che ha sentito qua È un piccolo ciò che si sente In generale Sui giornali I siti internet E vari Qual è secondo lei In qualche modo Il giudizio Che gli italiani stanno dando Rispetto a questa situazione Un quadro clinico No quadro clinico Risulta forse troppo In maniera molto generica Secondo lei Qual è il suo parere? Un quadro clinico Ma la situazione che ne emerge È un grande disorientamento Degli italiani Ma credo che non potrebbe essere Altrimenti Perché c'è una totale perdita Di punti di riferimento La politica litiga I politici litigano tra di loro Non c'è un governo Non si sa Anche a chi dare la colpa Se le cose poi alla fine vanno male E il risultato è una totale perdita di fiducia Ma in tutti Non in una forza politica o nell'altra Ma la totale perdita di fiducia Nella politica in generale E questo riagganciandoci a quello di cui parleremo poi dopo Porta anche i giovani Ad abbandonare questo paese Perché questo è anche un po' il risultato Di tutto quello che avviene La conseguenza è anche questa Il fatto che si vede in Coloro che dovrebbero essere I nostri punti saldi I nostri punti fermi Qualcosa che non c'è Che non c'è di concreto Che comunque non riesce A dare l'idea A trasmettere l'idea Di essere qualcosa di solido Che può guidare È chiaro È molto puntuale Come osservazione Perché poi è vero E vedremo anche poi Tutte le problematiche Che investono i nostri giovani Prima di parlare L'ultima cosa ovviamente Notizia delle ultime ore Per avere giusto un chiarimento La questione è legata Al programma dei 5 Stelle Le ultime ore sono uscite alcune notizie C'è stata già una risposta dei 5 Stelle Voglio in qualche modo Dare la possibilità anche a Schiavone Di poterne parlare La sostanza qual è Il foglio ha fatto uscire Un articolo In cui si diceva Che alcune Diciamo cose All'interno Del programma dei 5 Stelle Adesso poi sulle date Ci aiuterà Schiavone Pare che ci sono state Alcune modifiche Forse più di forma Che di sostanza Però adesso voglio riuscire A capire un po' Che cosa ne pensano I due ospiti che abbiamo Da Schiavone Partirei Questa è la solita Perché adesso giusto per dire Tra inizio febbraio E prima di marzo Questo si legge Su una serie di questioni Il movimento ha cambiato In qualche modo passo Nato, Medio Oriente Russia, Euro Russia, Euro E lavoro E ci si chiede Se la democrazia In questo momento Sia stata tradita Questa è l'esternazione Più forte Ecco diciamo Vogliamo capire questo Se sì o se no Allora C'è già stata una risposta Ufficiale Del Movimento 5 Stelle Sono stati cambiati Nella forma Alcuni problemi Alcuni programmi Ma non nella sostanza È un problema di semantica Non è Addirittura di sintassi Probabilmente Qual è il problema Il problema è che Si attacca in questo momento Di grande variabilità Come dicevamo Andrea Ci si attacca sempre A queste piccolezze Mentre invece Si dovrebbe rimanere più solidi Su alcune questioni prioritari Allora Noi siamo un paese Inserito all'interno Di una logica Di governo sovranazionale Perché sia come Europa Sia con i nostri alleati Abbiamo una storia Questa storia qui Nessuno la può mettere Ma quale forza di governo Potrebbe ragionevolmente Pensare Di stravolgere Questa storia Si vuole tanto Il Movimento ha messo Le cose più in chiaro Per rendere esplicita Questa cosa Si vuole tanto Che il Movimento 5 Stelle Abbia un ruolo istituzionale Si comporti Con responsabilità Ne abbiamo parlato Anche prima con Andrea E poi quando succede Si rende esplicita Questo ruolo C'è un problema Cosa avete scritto Cosa ne avete scritto Ora Francamente Dal mondo politico Che ha votato questa legge Perché il Movimento 5 Stelle Non l'ha votata Siamo in questo manicomio Perché qualcuno l'ha votata E noi no Io mi preoccupo Quando cominceranno A parlare bene Il Movimento Perché Finora Ne parlano male Quindi Vediamo cosa succederà Su questo tema Monti si ha un parere Rispetto a quello Che ha detto Anche Schiavone Sulle posizioni Rispetto Ai Riposizionamenti Superiori A quelli che è l'Italia Le alleanze Penso che Schiavone Si riferisse Alla Nato Per esempio Certo che abbiamo Una storia Poi c'è anche la storia Dei cartaginesi Persiani Latenesi Ma nel senso Ci sono delle evoluzioni Perché Tutte popolazioni Che adesso non esistono più Però No Quindi C'è una posizione Per esempio Molto attuale Rispetto alla crisi siriana E i rapporti con la Russia Ricordiamo le sanzioni La Russia Che tanto hanno pesato E stanno pesando Sui nostri Sui nostri industriali E sui nostri imprenditori Perché questo Dobbiamo ricordare Io per esempio Io la Lega Crede che È imprescindibile Un rapporto tra l'Europa E la Russia La Russia non può Essere staccata Dall'Europa Nella visione Del futuro Certo Se siamo rimasti Alla guerra fredda Degli anni Ottanta Fino agli anni Ottanta E quindi rimaniamo Legati al passato A un modello Della Nato Di contrapposizione totale Verso la Russia Ma non siamo più Negli anni Ottanta Oggi Io credo Che abbiamo tutto il diritto Di vendicare una posizione Diversa rispetto alla Russia Che non vuol dire Dare sempre ragione A Putin Difendere sempre Putin Piuttosto che dire Che Basara Lasciata Ha sempre ragione Valutarla in maniera diversa Rispetto a prima È chiaro Cioè ci sono Come non vuol dire Uscire dalla Nato Però noi dobbiamo Mettere i punti fermi Su questo Per venire al punto La domanda È chiaro che Il momento 5 stelle Qualche differenza Rispetto a qualche mese fa Comincia a farla intravedere Non so se è proprio Ideutica A un futuro governo Col PD Io provocatoriamente Stamattina Ho postato Ho postato Sulla mia bacheca Film Una bella foto Di un vasetto Di vaselina Ho detto Cari amiche di 5 stelle Cominciate ad andare in farmacia A comprarne qualche scatoletta Perché ne dovrete fare Ampio uso Perché è chiaro Che su molte posizioni Sul PD in testa Oggi Renzi Invece vi avete raccontato Una roba di Ovviamente Ovviamente Questa è la Io sulla mia bacheca Scusa Ho postato una foto Una bellissima Vignatina Dove ci sono Dove ci sono Il PD Salvini Per capire Quali sono le problematiche Che i giovani Devono affrontare A tra poco Ben ritrovati Come vi avevo anticipato Sempre meno presenti Sempre meno presenti I genitori sono molto presi Sicuramente dal lavoro Ma anche da tante Diciamo Tentazioni esterne Pensano molto A se stessi Secondo me Dovrebbero fare Qualche rinuncia In più Ed essere Più presenti Comunicare con i ragazzi Non soltanto Sgridare Ma soprattutto Cercare di capire Che cosa stia loro succedendo Non è possibile Che soprattutto Questa regenerazione Si è costretta A pagare Gli errori precedenti Non solo Della politica Quindi di scelte politiche Ma anche scelte economiche Scelte sociali Sbagliate Quindi sono notizie Che quando Le leggi Sul giornale O le vedi In televisione Ecco Ti fanno un po' Di paura Sostanzialmente Però il consiglio Che bisogna dare ai giovani È Combattere Affidarsi dei valori Che diano un senso Alla propria esistenza E non lasciarsi andare In strade sbagliate Fallaci Come la droga L'alcol Il fumo Di certe sostanze Perché i problemi Si affrontano sul campo Ho avuto questa esperienza Purtroppo In una classe Una ragazza Che qualche anno Farsi era tolta la vita È stata una cosa Sconvolgente Per tutti Ma la motivazione? Non l'abbiamo mai saputo Perché nessuno Né le sue Né i suoi compagni di classe Né i docenti Né i docenti Né i docenti Abbiamo mai saputo Il perché No Ma questo Ci ha lasciato Proprio questo Grosso Rimorso Non saprei come dirlo Nel non aver capito L'angoscia Di questa ragazza E l'angoscia Che l'ha fatta A togliersi la vita Mi dà una tristezza Immensa Perché la vita È difficile E ci sono persone E ci sono persone Che non ce la fanno Pensare ai genitori Che hanno dei figli Che sono in giro Che non tornano a casa Perché Per un nonno Per un papà Per una mamma Non vedere i figli Di tornare a casa Vuol dire morire Morire subito Anche loro Se ne parla troppo poco Se ne parla abbastanza Se ne parla Non lo so Non so se ne parla troppo Se ne parla troppo poco Forse si sta dando Troppo Troppa pubblicità A questi fenomeni Secondo me I social Possono essere La La rovina Un po' bisogna utilizzarli Con un po' più di Passimogno Perché lo facciano Spesso per moda Per Per mancanza Di altri valori Che forse Non riusciamo più a dare Come genitori Ai nostri figli Rispetto al passato O forse perché C'è troppa Facilità Nell'accedere A tante cose Che una volta Non c'erano E che ci portano A cercare Sempre di più Sicuramente La ricerca Di un lavoro La precarietà Sono fattori Che incidono Io penso Che la società E senza altro I mezzi pubblici La scuola E lo Stato Eccetera Eccetera Dovranno parlare Molto di più di questo Perché è una cosa Molto importante E molto Molto grave Significa che Abbiamo fallito tutti Non abbiamo capito Cosa succede A questi giovani Parole molto Molto forti Molto toccanti Casale Voglio sapere Innanzitutto Da lei Che cosa Ne pensa Di quello Che ha Sentito E che spiegazioni In qualche modo Si dà Se ci si possa Dare delle spiegazioni In questo senso Ma dunque Non è mai semplice Dare spiegazioni Sul perché Alcuni ragazzi Anche molto giovani Si tolgono la vita Sicuramente Dipende Da gravi Importanti Conflitti Interni Che hanno Per cui Sicuramente Tutto il contesto Esterno Che non sia Quello strettamente Familiare Può avere colpa Ma relativa Quello che avviene Nelle famiglie È che molto spesso Non esiste Una vera Attenzione All'altro Una educazione Al dialogo Una educazione Alla condivisione Per cui Molto spesso Questi ragazzi Sono ragazzi Soli Ma non praticamente Sono soli Emotivamente E questo Fa sì che Purtroppo Nel momento In cui ci sono Delle difficoltà Psicologiche Interiori Molto forti Anche Chi è attorno A questi ragazzi Non se ne accorge Abbiamo sentito Prima l'intervista A un insegnante Credo che diceva Non siamo riusciti A capire Neanche le amiche Più intime Più strette Il perché Di questo gesto Perché i ragazzi Che hanno Dei veri problemi Non parlano Bisognerebbe Imparare A cogliere Quelli che sono Delle sfumature Che riescono Ad interpretare Solo le persone Vicinissime Al ragazzo stesso Quindi ovviamente I familiari I genitori Però Molto spesso Come si diceva Anche in qualche Altra intervista Questi genitori Sono Impegnati Nella loro Corsa quotidiana Perché andiamo Tutti di corsa Io sono genitore Andiamo sempre Tutti di corsa E quindi Talvolta Non per mancanza Di amore Ma perché Per mancanza Di tempo Reale Non riusciamo A renderci conto Che ci sono Delle priorità Assolute Davanti alle quali Tutto si deve fermare È chiaro A questo punto Vi sottopongo Tre casi Degli ultimi Successi Per esempio Il primo riguarda Un po' Il tema Legato alla scuola Perché Nell'Università Di Napoli Una ragazza Chiama Giada Aveva Fondamentalmente Detto a tutti Che si stava Per laureare Cosa purtroppo Non vera E nel giorno Della discussione Della tesi Purtroppo E lo leggiamo appunto Dall'attito Del Corriere Il giorno stesso In cui gli altri Stavano discutendo La tesi Lei purtroppo Ha deciso Di togliersi La vita Nello specifico Ovviamente Per esempio Sua cugina Su Facebook Ha utilizzato Le parole molto toccanti Con le quali La giovane Ha provato In qualche modo A trovare Un filo di speranza Per andare avanti Ovviamente Si cerca di andare avanti Ma si cerca di capire Se ci sono Delle responsabilità E che cosa si può fare Per evitare Che situazioni di questo genere Accadano nuovamente Altro problema L'abbiamo sentito E poi io Sottoporrò Le tre questioni Agli ospiti Che abbiamo in studio C'è anche un problema Legato proprio Alla società La società di oggi Che in qualche modo Ti porta a pensare Di dover essere visivamente In un certo modo E purtroppo Si è suicidata Una ragazza di Torino Giovanissima In questo caso 15 anni Che si sentiva Troppo grassa Per questa società E per Stare in mezzo In mezzo agli altri E nello specifico Tutto ciò Ha fatto sì Che abbia deciso Alla fine Di togliersi la vita Anche in questo caso Capire se il sistema Diciamo Pubblico Di aiuto psicologico Può essere potenziato In qualche modo Per cercare di dare Una mano A questi ragazzi E il terzo Diciamo Grande ambito È invece quello Legato un po' Alle droghe All'alcol L'abbiamo sentito Anche qui Dalle nostre interviste Un ragazzo Che diceva di evitare Di lasciarsi andare In questo senso E parliamo Della storia Di Nicola Marra 21 anni Che è morto La sera di Pasqua Per uno shock Alcolemico C'è anche Le parole molto forti Del padre Di Nicola Che Diciamo La citazione Che si può leggere Sul giornale Gli ho visti Accasciarsi Sulle panchine A terra Parlando ovviamente Di questi ragazzi Che ha visto Soreggersi L'un l'altro E cadere Gli ho visti Aggrapparsi Gli ho visti vomitare Non era il ritorno Da una discoteca Ma era una mattanza E anche lì bisogna capire Se in qualche modo Diciamo La società E chi dovrebbe controllare Sta facendo O non sta facendo Abbastanza Per questi ragazzi Partendo da Schiavone Questi sono tre Macro temi Che ovviamente Potrebbero discutere Di ognuno di questi In maniera Molto approfondita Però in generale Ci si chiede La politica Fa abbastanza Per questa tipologia Di situazioni C'è qualcosa Che può essere fatto Di più C'è qualcosa Che è già stato fatto Queste sono un po' Le domande Che si fanno Di parlare Di politica Ti do un parere tecnico Sai che sono un medico La psicologia evolutiva Ha già studiato molto bene Questo caso sociale La famiglia comunque È sempre molto impegnata Corre E non può reggere A quel bombardamento Mass-mediatica A cui sono sottoposti I nostri ragazzi Che per una storia Relativamente breve Hanno pochi anni Non sono ancora Abituati A percepire Il mondo Per quello che è E vengono bombardati Da modelli Di perfezione Di successo E alle volte Devono scappare Da questi modelli Quando non riescono Ad adattarsi Nelle droghe Nell'alcol Questo Gli mette È una trasvalutazione Dei valori E li mette In condizioni Oggettivamente Difficili Come si possono aiutare? Beh Sicuramente I coetani Dovrebbero poterli aiutare Molto Perché parlano più facilmente Questo è dimostrato Alcuni studi Con i loro amici Coetani Che con i genitori E poi C'è un problema Molto grande Noi dobbiamo Trasmettere Ma a livello sociale Dei valori Per cui non è vero Che tu Se non sei Inserito in questo format Non ti rispecchi In questo format Sei fuori dal Gioco E non sei adatto A questo mondo Perché le persone Più importanti Che hanno cambiato Veramente la storia Del mondo Perché ci sono Due teorie storiche C'è il singolo O c'è la malza Ma i singoli Che hanno veramente Dato un'impronta nuova Erano virgolette Dei disadattati Seguivano delle storie Delle strade diverse Le traiettorie diverse E questo Gli ha permesso Di concepire il mondo In un'altra visione E dare dei colpi di genio Che hanno dato Delle vere raddrizzate Alle traiettorie Dell'umanità Detto questo Che è un intervento Squisitamente tecnico Per cui Qui ci deve pensare Un compartimento Che va ben oltre La politica Che cosa deve fare La politica Cosa può fare la politica Cosa deve Noi dobbiamo pensare Che dobbiamo farlo Prima di prendersi conto Se possiamo farlo Perché deve essere Un imperativo categorico I ragazzi Sono il nostro futuro E quindi Noi dobbiamo aiutarli In tutti i modi Cosa dobbiamo fare Fare delle cose Diciamo molto pratiche Per esempio Trovargli il lavoro Trovargli delle inserzioni Magari in esperienze Che li possano staccare Da quel contesto E metterli in un contesto diverso Delle associazioni Del lavoro interinale Delle cose Che gli aiutino A formarsi Quel substrato Di esperienza Capace Che poi li renda Capaci di affrontare Il mondo In un modo diverso E soprattutto Noi dobbiamo garantirgli Un futuro Mio figlio Ha vent'anni È entrato due anni fa È entrato in medicina Il primo colpo Orgoglio del papà E adesso Sta studiando medicina Ma già pensa A dire papà Sai che ho capito Che in chirurgia L'Italia Non è Ormai sorpassata Quando mi laureo Cerco di fare un master all'estero Cioè Bisogna cercare Di trattenerli Io ho portato Un esempio personale Ovviamente Però bisogna cercare Di far capire Che il futuro È in questo paese E non all'estero Perché se no Questa nazione Come nazione Non avrà un grande futuro Come possiamo fare Perché effettivamente Questa è una modalità possibile Cioè dando delle opportunità maggiori Probabilmente anche Le pressioni Si sentono in qualche modo In qualche modo di meno È fattibile O ci sono anche delle cose Come anche solo dei fondi Da dare maggiori ai comuni Per contribuire a portelli psicologici Aiuti in quel senso Non so Sto facendo pensieri Ma capire un attimo Se la politica può dare un risposto o no Credo anch'io Che il compito primario La politica in questo campo Sia di creare delle opportunità È innegabile che negli ultimi anni Forse decenni L'Italia non è più vista Come il luogo delle opportunità E lo diciamo Qui lo dico da Lombardo Non solo Da Brianzolo Che è per antonomasia La patria della libera impresa Dell'individualismo Da alcuni anche criticato Come modello economico Che però Ha creato Una delle province Più ricche D'Italia Probabilmente D'Europa Ecco Anche qui E se anche qui Sentiamo Di non E soprattutto i ragazzi Avvertono Di non avere più Dell'opportunità Per essere protagonisti Nel mondo Del lavoro Ma dico anche Dell'impresa E quindi nella loro vita Allora qui significa Che l'allarme È veramente alto Poi ci sono dei casi Diciamo più personali Con vicende Molto più soggettive Penso la ragazza Della laurea Legata alla laurea Forse lì era un caso In cui si sommava Una vicenda molto personale Un caso molto specifico Ma in generale Noi non stiamo più Garantendo un futuro Come è qui Per rimetterla un attimo Anche sul dibattito politico E più programmatico Le due grandi visioni Contrapposte Da una parte Quella del Sussidio Barra Reddito di cittadinanza Barra Do un aiuto Do Uno stipendio garantito Invece Dall'altra parte Creo le condizioni Per poterti inserire Nel mondo dell'impresa Per far sì che Sia tu stesso Artificio Il tuo successo E che tu possa fare la differenza Lavorando Impegnandoti E credendoci Cioè un ragazzo Deve essere mosso Anche e soprattutto Dalla passione Per ciò che fa Per ciò in cui Crede La voglia Però la voglia Viene anche se cresce In un determinato Contesto Non lo possiamo nascondere Che il contesto fa tanto Ecco Qui se la politica Vira verso La vecchia logica Assistenzialista Che tanto male Ha fatto soprattutto Una parte Del nostro paese Che è ancora Schiava e vittima Di anni Di assistenzialismo Quando parliamo Del sud Il divario tra nord e sud E continua Ad aumentare E anche e soprattutto Perché lì Lo Stato Ha battuto In maniera insistente Probabilmente Per convenienza Anche della classe politica Che l'ha attuato Sulla politica Prettamente assistenzialistica Questo hanno distrutto Il futuro di intergenerazione E di un territorio Che oggi Non si è ancora risollevato Dopo oltre 150 anni Di unità d'Italia I problemi sono quelli Di allora Ecco Noi dobbiamo creare futuro La mia ricetta Chiudo È quella più liberista Piuttosto che assistenzialista Che non vuol dire Un liberismo Solvaggio Ma liberare energie Soprattutto legate Alla libera impresa Che era un po' In qualche modo Quello che diceva Anche in termini Di lavoro Schiavone Voglio capire Da Casale Che cosa ne pensi Di ciò che ha sentito Rispetto agli ospiti Che abbiamo oggi In studio Sono delle modalità Che potrebbero aiutare In questo senso Sono le uniche Questa è anche La domanda Ma dunque Le modalità Sono sicuramente Delle modalità Molto utili Cioè creare Delle opportunità Comunque dare Dei valori sociali Differenti Questo è Importante Per come dicevamo Far sì che i giovani Vedano il loro futuro In Italia E vedano Il loro futuro Migliore Noi parlavamo però Anche di cose Molto diverse Cioè noi abbiamo parlato Di giovani Che sono morti Di giovani Che si sono tolti la vita O che sono morti Per l'alcol Quindi parliamo anche Di cose Che sono Alla base Vengono prima Delle opportunità Lavorative Piuttosto che Delle opportunità Di vita E questo Il mio parere Per cercare Di Arginare Per quanto sia possibile Tutto ciò Che sta succedendo È provare a dare Questo la politica Lo può fare Un aiuto concreto Alle famiglie L'aiuto alle famiglie Ovviamente non potrà mai essere Di ordine morale Emotivo Naturalmente Ma Di ordine Pratico Quello sì Perché Aiutare una madre A passare più tempo Con il proprio figlio E quindi Cercare di Creare gli asili Nelle aziende Piuttosto che Nei luoghi pubblici Mettere Agevolare Queste mamme Creare le condizioni Delle condizioni Migliorative Che possano appunto Dare l'opportunità Ai genitori Di essere più vicini A questi figli In questo modo Si potrebbe Facilitare Tutto quello Che è un meccanismo Di comunicazione E di relazione Che magari Riuscirebbe Sicuramente Non nella totalità Dei casi Perché sarebbe Qualcosa Che È fuori Da qualsiasi Idea Ma Agevolare Un sostegno Alle famiglie Che possa servire Proprio a questo Per cui Quello che succede È che i genitori Oggi non conoscono I figli Per quello che dicevamo Anche in precedenza Perché di fatto C'è sicuramente Una grave colpa Delle famiglie Moderne Questo è indubbio Però magari Se la politica Aiuta Quindi per esempio Penso agli psicologi Nelle scuole Perché non ci sono Gli psicologi Nelle scuole Per legge E non perché Lo psicologo Dell'aslo Del comune Volontariamente Si reca Una volta Al mese Per 3.000 alunni Ci sono tante cose Che potrebbero essere fatte Per aiutare tutti Noi li chiamo troppo Perché poi non riusciamo Eventualmente a Discutere insieme Sono assolutamente tanti Gli spunti Che ci ha dato la Casale Adesso poi li voglio Ovviamente Rilanciare A Monti e Schiavone Lo facciamo però Dopo la pubblicità Ci fermiamo qualche minuto E rentriamo insieme Tra poco Aiuto alle famiglie Psicologi Nelle scuole O comunque La necessità Di varare Delle leggi Magari più specifiche Quelle Queste sono un po' Ciò che la Casale Da Roma Stava cercando Di dare come Spunti Come aiuti Appunto Per evitare Che i giovani Sentano troppa Troppa pressione In qualche modo Vuole capire da Schiavone E poi ovviamente Anche da Monti Se all'interno Dei programmi Ci può essere qualcosa Che vada Verso questa direzione Appunto Un aiuto nelle famiglie Che non è L'aiuto meramente economico Come nello specifico Diceva appunto Dare la possibilità Alle mamme Di stare più vicine Ai propri figli O magari anche ai papà Quindi con magari Qualche legge speciale Per gestire in alcuni momenti Della vita Del proprio figlio E poter essere Un pochettino più presenti Oppure La psicologo Nelle scuole Per legge In maniera tale Che chi ha bisogno Può comunque Andare a parlare Con qualcuno Certo Schiavone diceva E' più facile Parlare con i coetanei Però anche lo psicologo In quel caso Sapere La psicologia cognitiva Gli studi Non lo dico io Voglio risponderti Ma prima Voglio fare una piccola Premessa Perché il reddito Ammortizzatore sociale Dai a un uomo Un pesce Ogni giorno E lo sfami per un giorno Insegnagli a pescare Lo sfami per tutta la vita Noi gli vogliamo Insegnare a pescare Ma mentre gli insegniamo Non possiamo farlo morire di fame Quindi bisogna dargli un pesce Mentre impara a pescare Poi impara a pescare E si autogestisce lui E darà un contributo Per tutta la nazione Detto questo Allora Il fatto di avere Più tempo Per i propri figli Per i genitori Non è detto Che poi lo usino Magari vanno su facebook Vanno fuori Dobbiamo pensare E sperare Che danno le possibilità Da professionista Anche di questo settore Raccomando Tutti i genitori Di cercare Sempre il più possibile Il dialogo Con i loro figli Perché tutti noi Nonostante corriamo Come dei matti Possiamo avere Un confronto Con i ragazzi Ovviamente dobbiamo Avvicinarci noi Al loro mondo Io lo faccio E devo dire Che funziona molto bene Non possiamo pretendere Che vengano loro Il nostro Per stabilire Questo contatto E cercare di capire Insomma Quello di cui hanno bisogno Poi chiaramente Benvenga che lo Stato Lo Stato E la collettività Dei cittadini Benvenga che si occupi Di questi problemi Devono essere mirati Molto bene E tecnicamente Molto ben preparati Perché questo è un settore Che Insomma Balliamo sul filo Nel senso Che poi bisogna vedere Quanto questi interventi Possano veramente Rendersi utili Io dico che tutti noi In prima persona Ancora prima che ci pensi La politica La politica Non è questa panacea Che fa tutto Noi come individui Tutti noi qui Che siamo anche in studio Dove partire da noi Deve partire da noi La buona volontà Di fare questo Perché dalle volte Sai È la forza Più importante che c'è Monti All'interno del vostro programma Qualcosa che possa andare In quella direzione? Due cose flash Ricordo Sono stati due cavalli battaglia Della campagna elettorale Del centro-destra La Lega Uno Abbiamo proposto Di tassare la prostituzione Con quei soldi Con quelli introiti Garantire L'asilo Gli asili nido Gratis a tutti E questo Già mi sembra una misura Che sana Da una parte Una piaga Che è quella di avere Una prostituzione Che esiste Esisterà sempre Come lo sappiamo Ma L'Italia Uno dei pochi paesi Al mondo È ancora Assolutamente Sconosciuta al fisco E Ha i controlli Anche sanitarie Oltre che di decenza E soprattutto Con quei soldi Finanziamo anche Una misura Una misura utile Poi vorrei ricordare Anche la riforma La legge Fornero Perché se mandiamo In pensione Le nonne A 80 anni È chiaro che Difficilmente Riusciranno a fare Le nonne Quindi già le mamme Giustamente lavorano Se poi le nonne Tradizionalmente L'ho detto più volte Anche qui Perché non prevedeva Per esempio Non tanto Il quotiente familiare Che ci voleva Ma addirittura Non faceva Nessuna discriminazione Rispetto A chi aveva Una famiglia Un mutuo E doveva mantenere La moglie E i figli E chi invece Non aveva nessuno A mantenere A tutti questi Dava indiscriminatamente 80 euro Non solo L'assurdo Che ci si potrebbe Trovare In una condizione In cui il capofamiglia L'unico che lavorava Era riuscito A raggiungere La quota Di 1550 euro Al mese Che non stiamo parlando Di cifre enormi Se hai un mutuo Sulle spalle Due figli E una moglie A carico A quello Renzi Non dava nulla Ai vicini di casa Che erano giovani Tutte e due A 1400 euro Al mese Senza mutuo Senza figli A quelli Dava 80 euro A testa Queste misure Hanno permesso Di sprecare Un'enormità di soldi 10 miliardi all'anno Con cui hanno Ingessato un pezzo Del bilancio Dello Stato Che sappiamo già Essere molto ingessato Dall'enorme Debiti Dall'enorme Interessi Sul debito pubblico E è chiaro Che abbiamo penalizzato Anche qui Chi ha deciso Coraggiosamente Di diventare Genitore In Italia oggi Che è veramente Un atto di coraggio Assolutamente Ma quello che dice Andrei è condivisibile Assolutamente Però il disagio emotivo Psicologico Che porta un ragazzo A pensare Che non c'è Altra soluzione Virgolette Soluzione Non è sempre Determinato Te lo dico Proprio tecnicamente Professionalmente Non è sempre Determinato Dal fatto Che non abbia soldi O non abbia possibilità Di avere Di appartenere A una certa classe sociale Anzi Non è assolutamente Così Cioè È determinato Da un format In cui viene bombardato Ed emotivamente È impreparato In quella maniera In questo cuscino psicologico Che lo protegge Per chiudere Voglio sentire Voglio sentire Per chiudere La casale Cosa ne pensa Diciamo Di questa discussione E se ha appunto Un appello Comunque In generale Se vuole lanciare Una sua idea In questo senso No Io sono assolutamente D'accordo Rispetto al fatto Che Il livello Socioeconomico Non c'entra assolutamente Nulla Nel senso che Anzi Molto spesso I ragazzi Che si tolgono La vita Appartengono A classi Socioeconomiche Elevate Proprio perché Hanno degli standard Troppo alti Per cui non basta Mai nulla Oppure perché Hanno O dei modelli Sbagliati O comunque Si prefiggono Delle prestazioni Troppo elevate Per le loro Stesse Capacità Detto questo È pur vero Che Immaginare Che i coetanei E quindi Le persone Con cui I ragazzi Che hanno Delle difficoltà Si confidano Naturalmente Sono i coetanei Poi possano Aiutare A loro volta I loro amici In difficoltà È un meccanismo Che non credo Possa Trovare soluzione Perché non possiamo Responsabilizzare I coetanei Di un Come dire Aggiustamento Della situazione La responsabilità È E comunque Rimane Delle famiglie Per cui Naturalmente Le famiglie Anche con Del tempo In più Potrebbero Rimanere Delle famiglie Comunque Distante Lontani E come Si diceva Usare il tempo Per andare In palestra Quello è naturale Rimane Responsabilità Delle famiglie Però Quanto meno Lo Stato Può provare A dare Degli strumenti Poi ognuno Con quegli strumenti Ci farà Quello che vuole Anche perché I coetanei Spesso Sono proprio I responsabili Del bullismo Che nelle sue Diverse forze Li porta In questo momento Io ho solo detto Che loro parlano Spesso con i coetanei Non che i coetanei Li possono aiutare Anzi Alle volte Sono causa del problema Non della soluzione Grazie mille Annala Maria Casale Psicologa e psicoterapeuta In collegamento da Roma Grazie per essere stata Con noi Grazie mille anche Ad Alberto Schiavone Grazie a voi Movimento 5 Stelle Andrea Monti Della Lega Grazie mille Buonasera a tutti Noi ora terminiamo Questa prima parte Poi con nuovi ospiti Parleremo di Siria Di politica Insomma sono ancora Tanti temi di cui parlare A tra poco